ci vediamo dopo però mi può fare sempre sta manovra ma ci vuole dottore dai figa in mano una clio tu dici non è che mi hanno un pulso cioè sono attuati con le nostre che sono molto più difficili che non si vede e non si sa ma nel senso vedi perpeggio ma ci puoi bene eccoci vai vai dottore e vai lo vedi qua certo e beh si può non è che non si può non posso persi uno scarico eh guarda guarda questo maggiorino con i tuoi cerchi della Porsche vabbè tanto maggiorino e Porsche sono uguali sono uguali eccoci ok il geppetto è cambiato fermo vai bella tutto carico di giallo di giallo è sempre successo fi tac grande andiamo a fare una prima scarabanzia eh ah l'ho messo qua scarabanzia città dove ci sono casco casco ben allacciato webcam accesa una chicap per scaldare le gomme uh e va bene andiamo è vero che stringe sto tasco che faccio quasi teoricamente lo conosciamo benissimo non ha più segreti ahah facciamo passare un modario Perfetto questa chicane, un pulgresso preciso, questa curva è stretta, bravo, la sovrastrezzatura, pendola, cecca che manco Carlos, cambio di marcia prima dell'ingresso, è arrivato figa, non l'hai visto, si ma guardalo come sbacchetta il port, va, chi cia, lo prende, lo prende, no, no, non lo prende, no, non lo prende, non prendi, non prendi un cazzo, che zudana non lo prende, oh, che ingressi puliti, oh, cieca, cieca, ti faccio che di là, vai giù di qui, che va bene qua ti prendi, eccolo, minca laga, lo penso che è quello che è entrato poco fa, che si è entrato fuori, via, 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 veloce, qui non mi ricordo un cazzo, quindi aspettiamo, ah, ok, e di qua, va bene, oh, cieca anche voi, cieca, se non mi ricordo male, qua c'è una curva, si, quella della mini, mi ricordo della mini, oh, questo qua lo superiamo, abbiamo un sorpasso a tiro, il nostro primo sorpasso è nullo, yes, vai, vai, puttana che è l'interno, puttana, quello dopo, quello dopo arriva bello, bello allegro, vai, vai, passa, ok, facciamolo, facciamolo passare, oh, lo chiudiamo, bravo, non c'è che lo chiudiamo, cazzo, lo chiudiamo, scelta forte, ok, una staccata decisa, prima dell'ingresso, boom, e ora percorrenza, 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 giù tutto in uscita, ferma la macchina, con lui davanti è tutto più facile, ora sto pezzo, oddio sto pezzo, sto pezzo che è incredibile, come si alleggerisce, ora dietro cosa è veniva, vai, vai, nella compressione piena, oh la madonna, oh la madonna, oh la madonna, è che si ricorda qua, vai, via, tu ti ricordi, boh, forse qui, ok, qua c'è, ok, qua stringe tanto, non ricordo che c'era il tipo della mini, esatto, si era questa, eh sì, sì, ma quel tizio là, quel pezzo qua, quel ritrino lì, ci sono un vuoto di video, che fanno il crash, quel pezzo che abbiamo appena fatto, ma non è in crash, qui c'è tutto il pezzo veloce, se non sbaglio, se non sbaglio, vai dopo, bam, vai dopo, è dopo, occhio che c'è il giallo, eh, è tipo bandiera gialla, eh sì, prima non c'era, qui c'è del giallo, si, ma tocco con le mani, vado le gambe, occhio, 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 stiamo lì qua, perso l'olio, è questo, no, sì, quella bandiera lì vuol dire che è perso l'olio, no, vuol dire che ci si parla, ecco qua, ah qua, guarda che stracciata, figa no, l'ho percorsa, eh beh minchia, c'è vent'anni, però non si è fatto niente, sì no, però minchia, se quanto cazzo deve pagare adesso, per tu occhio qua ancora, ah qua è, finisce il range di bandiera gialla, ah no, ancora, oh la madonna, caro attrezzi, vero, bisogna uscire, no, no, non uscire, vero, una moffi, ahia, bom, qua, si ricomincia, comincia il gioco, oh questo BMW, è nostro, è nostro, ma no, ma superiamo anche il BMW, superiamolo, figa ormai, ormai abbiamo una confidenza tale, occhio come sta, una sinistra a 90, bravo, fai correre, raccorda, ok ora su, si inizia a cannone, giù, giù una marcia, e ora si inizia a salire, diamoglielo, occhio cordolo, bravo, sfiora, 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 questo è il pezzo veloce, che inizia quando si risale, si però, si però, si va bene, bello il pezzo veloce, ho visto in lontananza, a due vari, molto meno lontananza, adesso, porca troia, un attimo diciamo che è sti qua, vabbè, segniamo, perfetto, minchia, ma scusa, ma è l'unione in lontananza, pensavo fosse un dosso, stacosa, hai visto, che era giallo, salto, sai, ho invitato a quelli del Nurboli, mi piace scherzare, scherzone, vai vai, ma è sicuro, quella madonna, andiamo più o meno uguali, poi adesso io, sto andando tranquillo, entra dentro, sfiora, bravo, adesso lasciamo passare, il mamperone, ok, sfiora, bravo, col mangiolone, ma quanto basta, e arrivano, al 2, mega forte, questa era un'ambulanza, quella, eh, sì, è un coglione, andiamo a prenderlo, questo è un brillante, coglione, buicinissimo, eh, doveva farla curva, ok, goditela, dottore, goditela, stiamo godendo? eh sì, beh, ecco una che arriva, ne arriva uno, bello allegro, vai, perfetto, goditela, dottore, goditela, ora ne arriva un altro, e lo lasciamo passare qua, prima della chicane, e ci godiamo, ah, minchia, guarda chi è, è il nostro amico, con 6.000 arcanze, pendola, 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 prova a superarmi te, eh, vai, superamile, te no, però, per prima faccio sta curva, che è bellissima, che devo fare, allora, ok, bravo, dentro, dentro, stai, esci, esci, beccolo il tossino, l'abbiamo sentito, perfetto, è una curva perfetta, gli siamo stati dietro, a quello con la GT, fantastico, dai, con la Polo, dai, via, ok, sfrutta, sfruttiamogli, sfruttiamo la sua scia, eh sì, ciao, grande, ma scusa, con la Lupo, occhio, freno, tac, entra, bravo, imposta, lascia correre, cambio direzione, così, bravissimo, quanto gli guadagniamo, prematone, ingracieca, ma va, un'altra curva, una curva seca, ma va, noi dietro abbiamo un Porsche, non ci siamo accorti, però prego, uh, uh, occhio, uh, ha avuto anche il po' anche noi, il suo momento di gloria, superare noi, mica doc, doc, porco dio, non sei preoccupato, no 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 doc, mi preoccupo, sei preoccupato, sei preoccupato, mi ero preoccupato, si era preoccupato, ma scusa, usare il cervello per guidare, esatto, del tipo, ma, lo spano tra Porsche e Polo, e lupo, uh, ce lo andiamo a guardare, mi sa che è già finito, la corda, la corda, sfiora, bravo, esci lungo, bravissimo, la percorrenza del mondo, ok, gas, la corda, la corda con la pelatina, bravo, tutto, 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 ok, ora, go piano, entra, ok, tac, tac, va bene, va bene, sfiora il cordolo, bravissimo, e ora tutto, e ora non c'è più niente, non lo so, vai, e ora tutto un cazzo, spica sto pezzo, ragazzi, arriviamo qua, salto, uh, sfiora, 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 e su di qua, bravissimo, ancora sfiora di qua, larga, stringi, bravo, cambio di direzione, sinistra rapido, ma dove andrà, dove andrà a finire, dove andrà, eccolo, ampio così, vediamo, e ora dove entra la strada, uuuuh, ma che cos'è, oh, no, no, qua non si sa dove bisogna andare, che non c'è un cazzo, quindi, qua non ce la ricordiamo per niente, eh no, eh no, cannone, eh non ce la ricordiamo, dai, passa a te, con il tuo volito, momento di ripoto per il motore, prendiamogli la scia, ma basta, tanto non possiamo, occhio, qua se frena lui, tu, devi, tu, devi pagare, ahahah, se frena lui, basta, uuuuh, alta parabolica, uuuuh, vediamo cosa fa lui, se lui è dentro, stiamo dentro anche noi, uuuuh, figa, figa che perfezione, tossetto, tossetto, allarghiamo di qua, allarghiamo di qui, uuuuh, adesso tornate, alleggeriamo, diciannovesimo chilometro, del ring, e non sentirlo, eh, eh, e salto qui, ok, ragazzi, figa, 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 la macchina dov'è, dov'è la macchina, ecco, vai tutto, tagli tutto, vai, facciamo il tempo, facciamo il tempo, facciamo il tempo, facciamo il tempo, il tempo, ecco, il tempo, è un via sport in rata, via, uuuuh, uuuuh, bella, doc, stai di qua, no, stai di qua, perché c'è le puli, si come hanno perso olio, eh, guarda, sta andando a fuoco, sta andando, bello, bello sto penso, che almeno ho lenti, minchia, va bene, minchia, ma questo che cazzo sta perdendo, oh la madonna, oh la figa, minchia, che risponuzza, le ho caro, che non si butto, oh la madonna, minchia, la, la, la fine gloriosa di ogni macchina, cazzo, minchia, che era come, cazzo, guarda, guardalo, ciao a sto punto, mettiamo il circolo interno, mettiamo la radio, pensavo, no, 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 basta, c'è il circolo interno, non entra qui niente, no, nebbia, figa, è veleno, questo, il circolo dell'aria interno, non c'è, oh, che giro, bella, che giro, grazie, minchia, stiamo, andavamo un bel pop in posta di prima, belli lanciati, figa, pam pam, oh, su, figa, figa, ah, 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 oh, dio, avevo paura che ero io, sarà che il fuoco, che fumiera, che fumiera, dove andate quello là, che fumiera, non spegnerlo con l'estintura, è andato, semmo gli ha dato fuoco del tutto, andiamo nel parco chiuso o andiamo lì? andiamo là, andiamo là, andiamo là, andiamo là, andiamo là, va, lascia anche il nostro parcheggio, non ci vedrà questo, no, perché ci ha, superati dentro, si può entrare, perché sennò è, è lì, ma perché no? Giappola, c'è, ciao a me, ciao a me, ciao a me, ciao a me